Intensa giornata di lavoro per i partner del progetto Alcotra Altevalli Cuore delle Alpi, che si sono ritrovati a Modan mercoledì 23 ottobre per il primo comitato di pilotaggio, cioè la cabina di regia in cui si attua il coordinamento strategico dei quattro progetti che lo compongono. Penso che oggi sia un'occasione per dimostrare che il Peter sta cominciando a dare risultati. E' vero che all'inizio dell'anno solo una parte dei partner aveva iniziato le attività, ma oggi abbiamo verificato che l'insieme dei progetti sta andando avanti, tanto in Italia quanto in Francia, sui quattro diversi temi. L'incontro è stata anche l'occasione per salutare il rinnovo dei vertici della conferenza Altevalli, l'associazione trasfrontaliera che dall'inizio degli anni 2000 lavora per la promozione del territorio trasfrontaliero. Alla presidenza è salito Maurizio Berriè d'Argentina, sindaco di Sos di Cesana, mentre la vicepresidenza sarà ricoperta da Jean-Claude Raffin, sindaco di Modan, da Guy Hermit, vicepresidente della comunità dei comuni del Brinsonè, e da Ombretta Bertolo, sindaco di Almese. La sfida che ci aspetta è notevole, perché vuol dire mettere in sinergia tanti territori, tanti enti diversi, con anche magari regole e legislazioni differenti tra Italia e Francia, per riuscire a valorizzare al massimo i nostri territori montani, che hanno determinate necessità, determinate fragilità, non semplici, non tutte omogenee, quindi sarà un grande lavoro. Il mio mandato è nella continuità di quanto si è fatto in questi anni, abbiamo lavorato e stiamo ancora lavorando su un Peter molto importante, sulla base dell'esperienza fatta in questo Peter cercheremo di portare avanti una politica, diciamo, bottom up, quindi di richiesta alle regioni di riferimento, sia in Italia che in Francia, di sostegno a dei progetti che partano dai territori. I cuori che compongono il Peter affrontano in modo integrato quattro temi che caratterizzano la vita delle comunità montane e rurali dai due lati della frontiera italo-francese. La mobilità sociale dei trasporti, lo sviluppo economico delle realtà imprenditoriali, i rischi regati alla fragilità del territorio. L'obiettivo è offrire occasioni di sviluppo e aumentare la qualità della vita per chi ci vive e chi vorrebbe andarci a vivere, migliorare i servizi per i turisti senza rinunciare a proteggere un ambiente di per sé tanto bello quanto delicato come la montagna.